È deceduta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dopo 14 giorni di agonia, Carla Interlandi, la ragazza di 23 anni, rimasta vittima di un incidente sulla strada statale 117 bis. Nel drammatico sinistro, tra un camion e un auto, la zia della ragazza, l'insegnante di Acate, Maria Carmela Di Bernardo, è deceduta sul colpo. La ragazza, invece, è stata trasportata in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta, dove lo stesso giorno dell'incidente è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale. Nelle ultime settimane, il personale medico del reparto di rianimazione ha tentato di tutto per tenerla in vita, ma i traumi riportati in seguito all'incidente sono stati troppo gravi.